Navigando con Telecom Italia ho trovato questo sito con una storia molto curiosa sull'origine di Venezia. Guardate questo video che ho caricato con Super Internet di Telecom Italia. Dice che un tempo la città era piena di strade a doppio senso. Un giorno alcuni operai, trapalando l'asfalto, per sbaglio bucarono un tubo maestro e le strade iniziarono a riempirsi d'acqua. Dato il gran numero di turisti venuti a vedere lo spettacolo, il tubo non fu mai riparato. Dai più sprint alla tua DSL con Super Internet di Telecom Italia a soli 4 euro in più al mese. Il primo mese è gratis. Provala, chiama il 187.